Oggi facciamo una ricetta semplice e deliziosa con i funghi pleurotus. Li ho già puliti semplicemente passando un pezzettino di carta da cucina leggermente bagnata. Poi sono abbastanza puliti di loro anche questi funghetti. Vado a tagliare la base dei funghi così e li faccio a strisce. Prendete una teglia bella grande, foderatela con la carta forno e trasferite i funghi tagliati. Un pizzico di sale, quattro patate piccole oppure due grandi, le vado a tagliare a fette. Questa ricetta è deliziosa e semplicissima da fare. Due spicchi d'aglio che io ho semplicemente tagliato a metà. Abbondante peperoncino, circa un cucchiaino. Mescoliamo tutto con le mani. E inforniamo. Sarebbe bene abbrusturiti, eh. Ci li gustiamo. Mi raccomando, togliamo l'aglio. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Grazie a tutti